La situazione precedente del sedile fu considerata inadeguata e quindi si decise di costruire questo palazzo nella cosiddetta piazza grande o piazza maggiore della città, che fu anch'essa ampliata per accogliere il nuovo palazzo. Si tolse rapido la giacca e la camicia e fece per arrampicarsi in cima allo scoglio più alto, pencolante sull'acqua, quando fu afferrato, fermato per la cinta da uno che è uscito all'improvviso dall'ombra. No! No! L'uomo scivolò dallo scoglio, recadde sulle ginocchia. O peggio! O figlio! Implorò. O peggio! 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 O peggio!